Ed eccoci qui a San Pietro a Marsala per la terza edizione, il terzo corso di aggiornamento per gli avvocati e per le forze dell'ordine organizzato dalla Camera Penale di Marsala in testa da Stefano Pellegrino. Abbiamo qui con noi il presidente di questa Camera Penale ed un illustre ospite, un generale Carabinieri che si è comandante della RIS di Parma, visto che il tema che si affronta oggi è quello della tematica dei serial killer. Di serial killer noi li vediamo spesso nei telefilm, in tv, al cinema, ma è qualcosa che fa parte anche della nostra realtà e di questo devo parlare proprio con un esperto che di serial killer e di materie del genere ne ha affrontato giornalmente. Ma guardi, per fortuna il nostro paese è un po' a riparo da quella serialità che invece contraddistingue l'Europa e in particolar modo l'America. Però come al solito quando li abbiamo avuti sono stati dei campioni di delitti e di omicidi e tra questi, e io ne parlerò oggi, è Donato Bilancio che ancora adesso è il più grande serial killer europeo e da questo punto di vista sono felice di poterne parlare proprio per raccontare come poi l'indagine si è articolata e ha portato in 40 giorni, soltanto 40 giorni, l'identificazione di un criminale così pericoloso. Ed è bello e quindi devo dare atto e ringraziare la Camera Penale, bello nel senso della formazione che possano partecipare dei giovani avvocati appartenenti alle forze dell'ordine perché almeno per quanto mi riguarda il caso Bilancio è un caso di scuola e quindi trasferire loro quali sono state le procedure e dargli dei consigli affinché quando, se mai avverrà un caso insimile, possano avere più strumenti per poter individuare e risolvere veramente aspetti drammatici. Avvocato, come è nata l'idea di incentrare questo terzo seminario proprio su serial killer? Ma in realtà l'idea è nata insieme a Luciano Garofano, anche Armando Palmeggiani, l'idea era quella di trattare i crimini seriali e quindi di conseguenza il serial killer è un tema che attrae. I crimini seriali sono quelli con cui ogni giorno noi ci confrontiamo perché sono reati contro il patrimonio, sono quelli commessi dalla delinquenza comune, sono le rapine costanti e ripetute che si commettono e quindi entrare anche nella psiche di coloro i quali commettono crimini seriali che non sono necessariamente serial killer, diciamo che da questo punto di vista è interessante sotto il profilo di aggiornamento. Abbiamo, oltre a Luciano Garofano, che logicamente insieme a Armando Palmeggiani fa parte di questo comitato scientifico, ormai da tre anni ci onorano della loro presenza. quest'anno abbiamo come ospite il dottor Giuseppe Iuvara che è medico legale oltretutto che ha contribuito alla soluzione di uno dei casi più complessi che attualmente è ancora in Cassazione, abbiamo saputo che nei prossimi giorni avremo la sentenza che è il serial killer di Cassibile che a Siracusa e che oggi ci ha raccontato in maniera molto dettagliata quindi un serial killer siciliano che ne ha uccisi ben nove tra il 1998 e il 2004 e poi adesso il processo è ancora in corso seppur avanti la Suprema Corte poi il dottor Ruben De Luca che è un criminologo esperto proprio di serial killer e Fabio San Vitale che è un giornalista che scrive per il tempo, che scrive per Giallo un giornalista investigativo che oggi ci ha raccontato per esempio di Jack the Ripper ed infine ma non per ultimo Gialloreto Carbone che è storico giornalista della RAI, di RAI3 è un giornalista che ha aiutato e ha contribuito a risolvere altri casi ci ha raccontato ieri di un serial killer romano che grazie alla sua caparbietà la caparbietà di Gialloreto è stato poi alla fine incastrato quindi diciamo sono modi e approcci sostanzialmente differenti ma che credo servano tutti a migliorare le nostre capacità anche di approccio alle questioni tecniche e scientifiche che affrontiamo giornalmente nella nostra attività professionale Senza entrare in merito a problematiche di cui lei non può parlare per ovvie ragioni ma quello che noi vediamo al cinema o leggiamo nella letteratura è realtà diciamo questi cacciatori di serial killer, l'intelligenza che si muove dietro le ricerche scientifiche, la tecnologia ecco c'è tutto questo mondo affascinante dietro alla caccia a un serial killer Sì c'è, la scienza nelle sue articolazioni ha dato degli strumenti impensabili fino a qualche anno fa purtroppo però non abbiamo risolto ancora il problema del primo intervento da cui poi dipende il destino di un'indagine e quello ancora pende un po' e soprattutto evidenzia della superficialità la mancanza di organizzazioni d'altra parte è su questo che noi lavoriamo e su quelle tracce che inevitabilmente un autore di crimini così particolari appunto l'avvocato Frazzitta giustamente ha esteso anche ad altri crimini seriali potenzialmente veramente abbiamo gli strumenti tecnico-scientifici per poter risolvere tutto ma c'è troppa superficialità e disorganizzazione in quel primo intervento in quegli approfondimenti che dovrebbero essere fatti in una scena del crimine che ancora non si fanno e quindi penalizzano e ridimensionano tutte le capacità tecnico-scientifiche Avvocato, la formazione è importantissima voi come camera penale lo continuate a fare forse giornalmente non solo nei corsi ma anche avvicinando i giovani aspiranti avvocati nelle loro attività, nei primi passi Noi abbiamo veramente un parterre d'eccellenza perché come diceva oggi il dottor Iuvara sono tutti giovanissimi, sono circa un centinaio, sono tutti giovani veramente questa è una speranza bellissima, questa attenzione verso la criminologia attenzione verso la giurisprudenza e quindi siamo contenti perché questo è un seminario di giovani e per i giovani per cui hanno risposto veramente in massa Quali altri appuntamenti alla camera penale a breve? La camera penale prosegue nelle sue attività innanzitutto di verifica sotto il profilo dell'organizzazione interna al tribunale e continuiamo con il nostro corso di formazione settimanalmente questi sono momenti d'eccellenza del corso di formazione però noi proseguiremo fino a dicembre